La Regione Abruzzo ha affidato alla ASL di Teramo il centro regionale di farmacovigilanza che si trova all'interno dell'ospedale di Sant'Omero. La responsabilità di questo ufficio è stata affidata alla dottoressa Elenia Senesi, dirigente farmacista presso l'azienda sanitaria Teramana e figura professionale adatta a svolgere le funzioni di responsabile per la farmacovigilanza. Gestirà sia i progetti di farmacovigilanza attiva regionali ma anche darà supporto ai responsabili locali, farà formazione e informazione a tutti gli operatori sanitari in merito alla farmacovigilanza. Che cos'è un centro che prende in considerazione tutta quella che è la dinamica della politica del farmaco in tutti i suoi aspetti sia per quanto concerne la spesa ma sia soprattutto per quanto concerne l'efficacia, quando concerne l'appropriatezza, quando concerne il controllo nella distribuzione del farmaco per quanto concerne quelle che sono per esempio le reazioni avverse nell'utilizzo dei farmaci. In Europa è stato stimato che il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti a reazioni avversi ai farmaci. Dati impattanti in termini numerici che hanno fatto sì che le normative vigenti in tutti i paesi dell'Unione Europea siano particolarmente attente e prevedano azioni di farmacovigilanza proprio per ridurre il numero e la gravità delle reazioni avverse ai farmaci. In Italia è l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che in qualità di autorità nazionale competente svolge le attività di sorveglianza dei medicinali. Dunque utilizzare le nostre professionalità, in questo caso affidare a livello regionale alla ASLI di Teramo questo compito serve e garantisce di più il cittadino.